un piazzamento. Attenzione, tutto regolare, il tiro e il gollo! La rete, la rete, attenzione, la rete del Bologna! Scusa l'aria perché c'è un gollo in, tantissimo, realizzato a Vali da Ronaldo che consente in questo momento di riaprire addirittura il campionato. Il trentacinquesimo del primo tempo, libertà per Zidane, il cross, testa e gol! Testa e gol da parte di Pupo Intaghi con il suo sporturismo, la rete nel pareggio e naturalmente si rincuora la Juve, si rincuora lo stadio, 1-1 esattamente al trentacinquesimo. Ed è cominciato questo secondo tempo. Del Piero Zidane, Intaghi, formidabile, tiro e è gol! E può essere, attenzione, la rete dello scudetto! E comunque pericolo nell'area della Juventus, insiste il Bologna, Marocchi, Baggio, 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 tiro, gol! Rete di Baggio! Rete di Baggio e si riapre incredibilmente la partita! E intanto, però c'è un gol più importante! Ancora Inzaghi, su Krasti Poteca! E c'è quasi un'invasione di campo! Rete di Inzaghi! Il terzo gol, trentacinquesimo, potrebbe essere il gol decisivo! E attenzione, perché c'è ormai un gol importantissimo! Lo realizza Ventola, esplode la scelta via Torino! E intanto c'è un gol che chiude a questo punto il discorso campionato, il discorso scudetto! La Juventus ha battuto il Bologna 3 a 2, ha conquistato il suo venticinquesimo scudetto! Grazie! Grazie! Grazie!